Coronavirus, primo rallentamento dei contagi in regione dopo settimane di crescita costante, ancora elevato il numero dei decessi. Il 23enne accusato di aver messo incinta la cugina di 12 anni questa mattina davanti al jeep ha messo le sue responsabilità. Primi fiocchi di neve in Carpegna, la protezione civile dirama per domani un'allerta zalla per neve sulle colline e forte vento in pianura. Ospite ieri sera di Calcio.Basket il capitano del Rimini Francesco Scotti che con grande realismo ammette parlare di vittoria del campionato è da stupidi. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Icaro Tg. Apriamo come di consueto con l'aggiornamento Coronavirus. Se ormai sono un'abitudine numeri scostanti tra un giorno e l'altro dovuti anche ai ritmi dei laboratori, in Emilia Romagna il dato allargato agli ultimi dieci giorni, registra un primo rallentamento dopo settimane di crescita costante. Stabili i ricoveri, oggi resta invece alto il numero dei decessi, il servizio. Ancora presto per parlare di contrazione della curva, ma nell'analisi dei contagi su periodi di cinque giorni in cinque giorni, per la seconda settimana in Emilia Romagna si registra una leggera flessione dopo l'ascesa costante tra ottobre e metà novembre. 11.791 i casi tra il 23 e il 28 novembre, dopo il picco di 12.783 tra il 12 e il 16 novembre. E anche oggi sono diversi i dati in contrazione a Rimini e in regione. Sono 121 i nuovi casi di Coronavirus in provincia, meno della metà di ieri, 48 i sintomatici. 34 casi sono emersi per sintomi, 71 per tracciamento. Tre i decessi nel riminese, due donne, una 87enne di San Leo e una 96enne di Rimini e un uomo di 95 anni di Sant'Arcangelo. In regione i nuovi casi sono 1.471 su un totale di 16.816 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test scende all'8,7%, il dato più basso da diversi giorni. E anche nei raffronti sui cinque giorni si conferma un dato in leggera flessione dal 13,3 di dieci giorni fa al 12,7. L'età media dei contagiati nell'ultimo mese è di 45,7 anni. In aumento la fascia di età con più casi resta quella tra 50 e 59 anni. Oggi purtroppo non cala il numero dei decessi. Sono 52 in regione, con età tra i 37 e i 99 anni. I casi attivi sono attualmente 71.842, 111 in più rispetto a ieri, per il 95,8%. In isolamento domiciliare le nuove guarigioni sono 1.308. Con qualche sbalzo tra un giorno e l'altro, la situazione degli ospedali è sostanzialmente stabile da una ventina di giorni. I ricoveri in terapia intensiva in regione a oggi sono 247, due in meno di ieri. Rimini invece sale da 22 a 23. 2.729 quelli negli altri reparti covid. Oggi 26 in meno. Si è tenuta questa mattina la convalide del fermo del 23enne peruviano indagato per atti sessuali nei confronti di una cugina di soli 12 anni e di violenza sessuale nei confronti di una seconda. Davanti al GIP ha fornito la sua versione dei fatti, il servizio. Ha ammessi molteplici rapporti sessuali con la cugina minore rimasta incinta, ma davanti al giudice ha tenuta a precisare che tra loro c'è un sentimento. Gli atti sessuali so che erano sbagliati per via dell'età di lei, ma tra noi c'è affetto. Lo ha ripetuto più volte il giovane peruviano come a volersi convincere di non aver fatto nulla di sbagliato. Peccato però che per la legge italiana un adulto che fa sesso con una minore di 14 anni commette sempre un abuso, indipendentemente dall'eventuale consenso della vittima, da considerarsi viziato dall'incompleto sviluppo psichico dei minori di quell'età. La relazione, come l'ha definita l'indagato, è iniziata durante il lockdown, quando lui era spesso ospite della famiglia di lei ed è proseguita fino ai primi di novembre, quando quel gonfiore addominale sospetto ha spinto le maestre di scuola ad allertare la madre della dodicenne. Lui si era già reso conto che la cugina poteva essere incinta nonostante lei provasse a minimizzare. Quando la visita ginecologica però ha spazzato via anche quei pochi dubbi, al 23enne non è rimasto che lasciare il riminese e rifugiarsi a Firenze da una zia. Quello era l'unico modo spiegato per sfuggire alle ritorsioni dei familiari della bambina. Il 23enne ha invece respinto con forza le accuse di violenza sessuale nei confronti di una seconda cugina, sempre minorenne. Non l'ho mai molestata, sono tutte invenzioni, ha ripetuto. A tal proposito il suo difensore, l'avvocato riminese Enrico Graziosi, che ha seguito l'interrogatorio in videoconferenza, ha depositato alcuni messaggi che la presunta vittima ha inviato al suo assistito. Messaggi che in parte lo scagionerebbero, nei quali la minore ammetterebbe di essere stata costretta dai suoi parenti a dire quelle cose. Questa sera alle 20.40, dopo la meditazione del Vescovo Lambiasi, a tutta salute si parlerà di HIV nella giornata mondiale di Lotta Lights. Il dottor Andrea Boschi, infettivologo responsabile della struttura interdipartimentale gestione e infezione da HIV dell'Ausl Romagna, collegato dalla corsia del suo reparto, ha affermato che al momento non è possibile effettuare i test sierologici per gli anticorpi Covid, accanto a quelli per l'HIV, come invece ha annunciato la Regione, perché molti medici sono a casa contagiati col Covid. Sentiamo questo passaggio della trasmissione. Ad oggi quante persone si sono presentate? È arrivato qualcuno che ha chiesto di fare l'uno e l'altro? Diciamo così, noi purtroppo non siamo in grado in questo momento di reggere anche all'esecuzione del test per il Covid, non siamo in grado purtroppo di fare l'uno e l'altro. Insomma ci sono tutte le buone intenzioni, però nella pratica non si riesce, quindi? Non siamo rincitti ad attrezzarci per poterlo fare, proprio per carenza di personale, per carenza di risorse. Le risorse che abbiamo ci saranno tutte per cercare di stare dietro adesso a queste cose qui e molte cose rimangono indietro, purtroppo. Dottore, a che giorni sono lì in ospedale? Sono giorni duri questi? Sono giorni duri, ma si vede un po' di luce, stanno calando i casi e quindi speriamo di finire anche questa seconda ondata e speriamo che questa seconda ondata ci abbia insegnato che, voglio fare il solito virologo che parla di Covid, che ce ne sono anche troppi individuali, che una volta finita la seconda ondata non si può fare liberi tutti per arrivare poi alla terza. Dobbiamo mantenere, diciamo così, questi comportamenti che ci tengono nel tempo finché non ci saranno accendazioni efficaci. Ad integrazione di quanto affermato dal dottor Boschi, l'Auslo Romagna ha tenuto a precisare che si sta attrezzando a livello organizzativo e di risorse umane per garantire in tempi brevissimi l'esecuzione di entrambi gli esami diagnostici congiuntamente e gratuitamente, in modo da favorire l'esecuzione del test HIV, fondamentale per effettuare una diagnosi precoce della malattia anche in un momento in cui il Covid rischia di limitare l'accesso delle persone ai servizi sanitari. A Coriano resta intricata la questione relativa alla collocazione dell'antenna Wind sul territorio. La compagnia forte di due autorizzazioni è ripartita nei giorni scorsi con i contestati lavori per il posizionamento nell'area del castello malatestiano. Wind sia comunque detta disponibile a delocalizzare l'impianto se arriveranno alternative ritenute idonee. Prosegue quindi la mediazione tra l'amministrazione di Coriano e la compagnia. Un incontro si è tenuto anche ieri ma sembra al momento non sia stato trovato un accordo e proprio in questi minuti è in corso un'assemblea pubblica convocata dalla stessa amministrazione per informare i cittadini sugli sviluppi della trattativa con il gestore. E noi vi terremo chiaramente informati. Torna domani sera su Icaro TV l'appuntamento con fuori dall'aula la politica locale. A confronto in collegamento da Cattolica ci saranno il sindaco Mariano Gennari e il consigliere d'opposizione Massimiliano Gessaroli di Cattolica nel cuore. Il dibattito si concentrerà sui cantieri al via nella città dal nuovo lungomare al progetto Macanno, dal palazzetto dello sport, alla riqualificazione della stazione ferroviaria fino alla discussione che si è aperta in questi giorni sullo spostamento della scuola di piazza della Repubblica. Fuori dall'aula è in diretta alle 18 e replica alle 20 e 40. Cambiamo l'argomento, cambia la forma ma non la sostanza. Questo è lo slogan della colletta alimentare che torna anche quest'anno con modalità diverse per l'acquisto della spesa e il servizio. Quest'anno non vedremo i volontari con il gile giallo alle casse dei supermercati per lasciare la borsa e ritirare la spesa della colletta alimentare. Le disposizioni per il contenimento del Covid-19 vietano i passaggi dei prodotti di mano in mano, ma la colletta alimentare c'è e si farà lo stesso. Cambia la modalità, si acquista una card con un ammontare di spesa, ma non cambia la sostanza. C'è tempo? Fino all'8 dicembre. Tutte le informazioni sul sito www.collettaalimentare.it Quest'anno viene proposto l'acquisto di una card, quindi non si possono fare passaggi alimentari, ma la card comunque acquistabile presso i supermercati consiste nell'acquisto comunque di prodotti. Quindi in ogni card c'è un codice a barre che nelle casse dei supermercati viene contabilizzato come acquisto di prodotti. Per questo quella forma è diversa, non si acquistano i pacchi di pasta, le scatole di tonno, si acquista una card. Però non cambia la sostanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque l'acquisto della card corrisponde esattamente all'acquisto di prodotti come gli altri anni. Non si tratta di una donazione al banco alimentare, perché alla fine della colletta, che sarà l'ultimo giorno, l'8 dicembre, tutto quanto è stato raccolto attraverso le card dai vari punti vendita, sarà trasformato nell'equivalente dei prodotti che verranno consegnati al banco alimentare. Per 7 martedì di fila i corti animati del Cartoon Club sbarcano su Icaro TV. È il Cartoon Club Show la risposta del festival riminese dedicato all'animazione e alle limitazioni imposte dalle norme per il contenimento del DPCM. Dopo l'evento estivo, infatti, il Cartoon Club propone in collaborazione con la nostra rete, 7 martedì, a partire da questa sera alle 21.15, con altrettanti appuntamenti dedicati ai miglior cortometraggi animati inviati al festival da tutto il mondo. I cartoni animati sono stati divisi per genere. Si parte questa sera con le animazioni dedicate al sociale, che continueranno anche martedì prossimo. Martedì 15, l'unica serata in cui il programma andrà in onda alle 22.15, tema guerra, poi due serate dedicate al best-of, con le animazioni che hanno riscosso più successo e le ultime due dedicate invece ai più piccoli. Passiamo ora invece al meteo, mentre sulla pianura romagnola ha cominciato a piovere dalla tarda mattinata, con qualche ora di anticipo rispetto alle previsioni, la Carpegna già oggi ha registrato una prima imbiancata e non si tratta di una perturbazione passeggera. La protezione civile dell'Emilia Romagna ha infatti emanato un'allerta che, a seconda delle province, riguarda vento, neve e stato del mare, valida per oggi e per tutta la giornata di domani. Le precipitazioni sono previste a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 metri. L'allerta gialla per neve riguarda anche le alture riminesi. Sempre gialla l'allerta per vento e stato del mare sull'area costiera della provincia, dove anche domani sono previste piogge. In calo invece le temperature. E ora passiamo allo sport. Stato ieri sera ospite di Calcio.basket, il portiere del Rimini nonché capitano, Francesco Scotti, che ha analizzato la complicata situazione che sta vivendo la squadra. Ascoltiamo uno stralcio. Oggi stiamo dimostrando che parlare di vittorie di campionato è da stupidi. Perché comunque sia a sei giornate, hai otto punti, sì, ti vedi nella parte alta della classifica, ma quelle sotto hanno quattro partite, tre partite. Quindi la classifica può solamente che peggiorare quando le altre recuperano. Dobbiamo essere bravi noi come squadra perché credo che io credo, conosco i miei compagni, l'ho visti allenarsi, l'ho visti giocare, qualcuno li conoscevo già. Secondo me abbiamo tutte le qualità per poterne uscire. Come? Dipende da noi, dipende dall'allenatore, dipende dalla società, dipende da tante cose. Però le qualità ci sono. Le qualità non sono quelle che abbiamo fatto vedere. Ieri Francesco Pancari ha fatto l'analisi perfetta. Partivamo da dietro e l'abbiamo provato in questo mese che siamo stati fermi tutti due volte alla settimana la partenza da dietro. Però ieri lo scorrimento della palla era lenta, era lenta la transizione da una parte all'altra. Non siamo questi. Se siamo questi, allora parliamo di niente. E' tutto. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le news del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it per rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il telegiornale. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata.